e bello a tutti ragazzi bentornati sul canale dell'endurista del weekend finalmente seconda del campionato italiano motorelli classe cpx oggi siamo in abruzzo lo specifico a gioia dei marsi viaggio lungo ma belli pronti e carichi per questa seconda giornata campionato italiano motorelli come vedete dalla prima tappa abbiamo fatto qualche aggiornamento tra cui scarichi nuovo milo omologato modello dakar in acciaio inox oggi quindi giorno zero di preparazione un po alla gara che sarà domani e domenica oggi giornata bella calda domani hanno messo nuvolo barra pioggia metà mattina inizio pomeriggio e domenica pioggia tutto il giorno quindi prendiamo quello che però dai intanto adesso ci prepariamo per le verifiche amministrative le verifiche tecniche dopodiché riposo relax fino a domani che si parte fungasse a o verifiche amministrative completate adesso attacchiamo i numerini di gara fogliottino da consegnare alle verifiche tecniche andiamo alla fonometrica operazioni preliminari concluse fonometrica passata per un pelino no in realtà c'è ancora del margine scarichino suona forte ma tutto regolare e adesso si riposa fino a domani e domani ciao ragazzi